popolo di mister topolini io sono mister Rocco e lui è il numero 47 47 nome e cognome nome è Aleksandra e cognome Radosavljevic italiano ho capito beh comunque non riesco a dirlo però gli amici da casa hanno sentito allora tu di dove sei? Sono in Monfalcone però sono dal Serbia. Quindi tu abiti a Monfalcone però sei di origine serbo che da quanto tempo sei qui a Monfalcone? Un anno, un anno due mesi. Un anno e due mesi quindi già capisci l'italiano insomma quindi non è male eh? Mezzo. Mezzo, piano piano, piano piano, piano, slow, slow. Senti quanti anni hai? Eh 19 però 20 in mezzo, mezzo messe. Tra poco? Sì. Ah ho capito ad agosto? Sì. Ad agosto ho capito vent'anni. Tu studi? Eh no ho fatto, ho fatto ragioneria. Ragioneria ho capito beh lavori già o sei in cerca? Vorresti? Cerco ancora. Cerca di lavoro? Sì. Ho capito ho capito. Senti il mi parlavamo prima che tu cosa sognavi di diventare? Ancora non lo sai? Sì non lo so. O meglio lo sai? Cosa vuoi fare? No voglio dimentirmi un po' perché ancora sono giovane no? Giusto. Senti ma tu sei fidanzato? Hai una ragazza, una girl o single? Adesso ce l'ho. Ce l'hai? Ce l'ho. Però di là in Serbia. Ah quindi la vedi poco? Piano piano. Vi vedete? Vi vedete. Ho capito va bene. Senti ben arrivato. Ben arrivato. Welcome to Mr. Topoli. Grazie. Adesso puoi salutare chi vuoi. Ciao. A posto? Sì. Di ciao a tutti. Ciao a tutti i miei amici. Ok ciao. Ciao a tutti.